Le fiabe originali sono tutte uguali. La principessa, l'eroe... Questa storia invece... ...è un tantino diversa. Io sono il prodigioso Maurice. Questo gatto parla! Ovvio, molti di noi sanno parlare. Svelti, muovetevi! Quindi, io che ruolo ho nella tua storia? Non sei né bello per essere il rubacuori, né simpatico per essere la spalla comica. Bene, prendo la mia borsa d'avventure. Andiamo! Mi sa che la amo. Sembra una città piena di opportunità. È molto tranquilla. Non ci sono topi da queste parti. Se ne sente l'odore, vero? Si sente l'odore di... di un mistero. Deve esserci un indizio che faccia progredire la trama. Nel mondo reale non c'è una trama. Le cose succedono e basta. Tutto bene. Non mi sono fatto niente perché sono atterrato di testa. Non crederete a cosa abbiamo trovato? È un essere malvace. Inquietante. Tranquilli, una tosta! Atterra sempre sulle zampe. Ah, Maurice! Il prodigioso Maurice! Dovete combatterlo! Venite da me! Che c'è? Il resto dovrete scoprirlo da soli. Il prodigioso Maurice! Di certo non è la solita favoletta. Ho un consiglio da darvi. Mai mangiare un popo morto che ha appena mangiato qualcosa, che ha appena mangiato qualcosa, che lo ha ucciso.